Il bilancio di sostenibilità è una fotografia diversa dell'azienda. È lo strumento che comunica a tutti, non solo gli aspetti economici, ma anche quelli sociali e ambientali. Nel 2016, Estra ha ottenuto una crescita del più 33%, con un PIL territoriale di 190 milioni di euro e investimenti che hanno raggiunto un più 3%. Il valore del capitale umano è rappresentato dal 93% dei contratti a tempo indeterminato e con un tasso del 75% di conferma dei neoassunti. La ricchezza distribuita in lavori e acquisto di beni e servizi raggiunge i 194 milioni di euro, di cui due terzi nel centro Italia. L'ambiente è un altro elemento essenziale per Estra, con l'abbattimento di tonnellate di CO2, NOx e PM10. La costante crescita dei clienti ha richiesto una più attenta Customer Satisfaction, che ha portato ad un meno 25% di reclami. I valori sociali sono al centro delle attenzioni di Estra, sostenendo iniziative culturali e sportive come Power Generation, Energicamente e Estra Sport Club. Estra è una multi-utility con una vocazione alla responsabilità sociale d'impresa. Grazie! 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 Grazie!